NSD, i serramenti migliori per la vostra abitazione. L'azienda produce, fornisce e posa serramenti in alluminio e legno alluminio, PVC, acciaio, porte blindate e per interni, portoni, tende da sole e tutti gli accessori quali zanzariere, veneziane e oscuranti. Inoltre esegue lavori di carpenteria leggera, manufatti di carpenteria e manutenzioni di infissi. L'ampia gamma di porte per interno di cui dispone renderà più calda e accogliente la vostra casa. La NSD è rivenditore autorizzato degli abbaini Belux, leader mondiale per la produzione di finestre per tetti e dei serramenti in PVC Ocnoplast che assicurano i massimi livelli qualitativi del prodotto. Affidarsi alla professionalità e all'esperienza di NSD significa scegliere serramenti che garantiranno alla vostra abitazione il giusto calore in inverno e il fresco in estate, con conseguente risparmio sulle bollette. NSD vi aspetta presso il proprio showroom per farvi conoscere tutti i suoi prodotti. Per informazioni contattatelo 040 24 56 150 www.msd.com.info www.msd.com.info